Foreign Service Institute Italian Familiarization and Short-Term Course Lesson 6 At the Hotel Dialogue for Listening Dove metto le valigie, signorina? Le metto qui, vicino alla finestra. Le occorre altro, signorina? No, grazie. Sono appena arrivata, ho soltanto dollari, va bene? Bene? Benissimo, grazie, signorina. Pronto? Servizio camere. Qui è la camera 318. Vorrei far stirare due vestiti e far lucidare un paio di scarpe. Va bene, signorina. Le mando la cameriera. Ha bisogno d'altro? Sì, vorrei anche un'altra coperta e degli attaccapanni. C'è una coperta nell'armadio. Le faccio portare subito gli attaccapanni. Grazie mille. Dialogue for Repetition Dove metto le valigie, signorina? Le metto qui, vicino alla finestra. Le occorre altro, signorina? No, grazie. Sono appena arrivata, ho soltanto dollari, va bene? Benissimo. Grazie, signorina. Pronto? Servizio camere. Qui è la camera 318. Vorrei far stirare due vestiti e far lucidare un paio di scarpe. Va bene, signorina. Le mando la cameriera. Ha bisogno d'altro? Sì, vorrei anche un'altra coperta e degli attaccapanni. C'è una coperta nell'armadio. Le faccio portare subito gli attaccapanni. Grazie mille. Taking it apart. Vocabulary. Other Altro Altro Something else. Anything else. Altro Also Anche Anche Closet Armadio Armadio In the closet Nell'armadio Nell'armadio Coat hanger Coat hanger Attaccapanni Attaccapanni Some coat hangers Degli attaccapanni Degli attaccapanni To need Aver bisogno di Aver bisogno di Aver bisogno di Do you need something, anything else? Ha bisogno d'altro? Ha bisogno d'altro? Waiter Cameriere 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 Blanket Coperta Window Window Finestra 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 Thank you very much Grazie mille Grazie mille Grazie mille To polish Shine Lucidare Lucidare To have something polished Far lucidare Far lucidare To send Mandare 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 I'll send you Le mando Le mando Le mando Le mando To put Mettere 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 I put Metto Metto Put them Le metta Le metta To be required Be needed Occorrere 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 Do you need Le occorre Le occorre Pair Paio Paio Hello Pronto 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 Shoe Scarpa Scarpa Room service Servizio Camere Servizio Camere Only Soltanto I've just arrived Sono appena Arrivata Sono appena Arrivata To iron Stirare I would like To have ironed Vorrei far Stirare Vorrei far Stirare Suit Dress Outfit Vestito 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 Additional vocabulary Towel Asciugamano 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 Toilet paper Carta igienica Carta igienica Carta igienica Pillow Cushion Cuscino Cuscino It works Funziona Funziona Pillow Guanciale Guanciale Lamp Lampada Lampada Light bulb Lampadina Lampadina Soap Sapone Sapone Bar of soap Saponetta Saponetta Television Television Televisione Televisione TV set Televisore Televisore Getting the feel of it Pronunciation Practice Le metta qui vicino alla finestra Le metta qui vicino alla finestra No, grazie Sono appena arrivata Ho soltanto dollari Va bene? No, grazie Sono appena arrivata Ho soltanto dollari Va bene? Qui è la camera 318 Vorrei far stirare due vestiti e far lucidare un paio di scarpe Qui è la camera 318 Vorrei far stirare due vestiti e far lucidare un paio di scarpe Sì Vorrei anche un'altra coperta e degli attaccapanni Sì Vorrei anche un'altra coperta e degli attaccapanni Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Working with the language Model 1A Dove metto le valigie? Qui Le metta qui Dove metto le matite? Sul tavolo Le metta sul tavolo Dove metto le penne? Lì Le metta lì Dove metto le sigarette? Nel cassetto Le metta nel cassetto Dove metto le coperte? Sul letto Le metta sul letto Dove metto le scarpe? Nell'armadio Le metta nell'armadio Dove metto le patenti? Nel cassetto Le metta nel cassetto Model 1B Dove metto la valigia? Qui La metta qui Dove metto la matita? Sul tavolo La metta sul tavolo Dove metto la penna? Lì La metta lì Dove metto la sigaretta? Nel cassetto La metta nel cassetto Dove metto la patente? Nel cassetto La metta nel cassetto Dove metto la coperta? Sul letto La metta sul letto Dove metto la scarpa? Nell'armadio La metta nell'armadio Model 1C Dove metto la valigia? Dove metto la valigia? La metta qui Dove metto la matita? Sul tavolo La metta sul tavolo Dove metto le patenti? Nel cassetto Le metta nel cassetto Dove metto le scarpe? Nell'armadio Le metta nell'armadio Dove metto la penna? Lì La metta lì Dove metto le coperte? Sul letto Le metta sul letto Dove metto la sigaretta? Nel cassetto La metta nel cassetto Dove metto la patente? Nel cassetto La metta nel cassetto Dove metto le sigarette? Nel cassetto Le metta nel cassetto Dove metto la coperta? Sul letto La metta sul letto Dove metto le penne? Lì Le metta lì Dove metto la scarpa? Nell'armadio La metta nell'armadio Dove metto le matite? Sul tavolo Le metta sul tavolo Model 2 Io ho ritirato i bagagli E lei? I biglietti Io ho ritirato i biglietti Lorella ha mandato una cartolina E Laura? Una lettera Laura ha mandato una lettera Lui ha dato due dollari al ragazzo E Gianluca? Tre dollari al ragazzo Gianluca ha dato tre dollari al ragazzo Roberto ha chiamato il servizio camere E Manuela? La cameriera La cameriera Manuela ha chiamato la cameriera Noi abbiamo prenotato una doppia con bagno E voi? Due camere con doccia Noi abbiamo prenotato due camere con doccia Io e il signor Craxi abbiamo cambiato mille dollari E voi? Cento dollari Noi abbiamo cambiato cento dollari Loro hanno ritirato i bagagli E Loredana e Donatella? I biglietti Loredana e Donatella hanno ritirato i biglietti La signorina e la signora hanno mandato una cartolina E i signori Berti? Una lettera Loro hanno mandato una lettera I signori hanno prenotato una matrimoniale con bagno E le signore? Una singola con doccia Le signore hanno prenotato una singola con doccia La signora ed io abbiamo chiamato il servizio camere E lei e sua moglie? La cameriera Noi abbiamo chiamato la cameriera Il signor Zardi ha cambiato duecento dollari E Paolo? Cento dollari Paolo ha cambiato cento dollari Le signorine hanno ritirato le valigie E Mara e Claudio? I biglietti Mara e Claudio hanno ritirato i biglietti Paolo ha prenotato una singola E Filippo? Una matrimoniale Filippo ha prenotato una matrimoniale Model 3 Io sono arrivata alle nove E lei signore? Alle nove e un quarto Io sono arrivato alle nove e un quarto Pippo è arrivato alle otto e lui? Alle nove Lui è arrivato alle nove Anna è andata in albergo E voi? Al ristorante Noi siamo andati al ristorante Loro sono andati a Venezia E loro? A Bologna Loro sono andati a Bologna Io sono andata in ufficio E Patrizia? All'hotel Patrizia è andata all'hotel La signora è andata a scuola E voi? In ufficio Noi siamo andati in ufficio Noi siamo arrivate alle dieci E Marina e lei? Alle otto Marina e Dio siamo arrivati alle otto Io sono arrivata alle sette e trenta E lei signore? Alle sette e trenta Io sono arrivato alle sette e trenta cinque Giuliana è arrivata alle cinque e trenta E la signora? Alle otto meno un quarto La signora è arrivata alle otto meno un quarto Le due signorine sono arrivate alle otto e un quarto E lei signore? Alle nove Io sono arrivato alle nove Il signore e la signora sono andati a Firenze E loro? A Roma Loro sono andati a Roma I due signori sono arrivati alle sette e trenta E il signor Di Bella e il signor Gervasi? Alle otto Loro sono arrivati alle otto This is the end of Lesson 6 Italian Fast Course E noi ci sono andati a fare il signor di noi A Roma è arrivato alle sette e trenta A Roma è arrivato alle sette e trenta